Lei pensa che siano ancora possibili queste atrocità? Oggi come oggi certamente no, ma non dubito che i tedeschi, e perché solo i tedeschi? Qualunque altro paese, forse che non ci sono dei cambi di concentramento in Grecia, ci sono stati in Grecia o in Algeria o in Brasile, e in Cile ci sono, quindi perché? Anche in Italia non ci vorrebbe molto. Io purtroppo devo dire, lo so questo, non è che lo pensi, lo so, so che si possono fare dappertutto, possono esistere, dove un fascismo, non è detto che sia identico a quello, un fascismo, cioè un nuovo verbo, come quello che amano i nuovi fascisti in Italia, cioè non siamo tutti uguali, non tutti abbiamo gli stessi diritti, alcuni hanno diritti e altri no, dove questo verbo attecchisce, alla fine c'è il lager, questo io lo so con precisione.